Una meccanica di base nuovissima allo Sprinter Mercedes-Benz per un profilato di alto livello dedicato alla coppia è il nuovo Franchi T7400GD Luxury, prima novità 2019 della casa tedesca, completamente ridisegnato negli esterni, specie nella parte del cupolino, ora dotata di doppio oblo panoramico, adotta la meccanica tedesca in versione 516-519 con trazione posteriore, ruote gemellate in massa complessiva fino a 5.500 kg e scocca ThermoGuard Plus con nuovo rivestimento interno in microfibra abbinata al classico Maxi Garage posteriore e un doppio pavimento con altezza compresa tra un minimo di 12 cm nella porzione centrale passante e massima di 35. Modernissimo nella concezione a partire dalle motorizzazioni dei cambi dal sistema di infotainment Mercedes-Benz, il nuovo Sprinter si abbina con naturalezza a una scocca dalle volumetrie generose in cui la porzione anteriore è dedicata al living, pensato per ospitare 5 persone, con semi di netta L, divanetto contrapposto e poltrone cabina con sostegno pneumatico racchiuse intorno al tavolo centrale con sistema di implemento. L'ingresso con mobile bar e mobile tv racchiude tutto ciò che possa servire a controllare le funzionalità del veicolo, quindi i pannelli di comando e apre l'abitacolo verso la zona della cucina, contraddistinta da un piano in resina minerale e da un'ampia possibilità di stivaggio. La toilette è passante organizzata con un locale che può essere fruito sia singolarmente che con un ambiente unico, con doccia su un lato e toilette su quello opposto, mentre in coda la camera padronale vede la presenza di due ampi letti gemelli inseriti in un ambiente particolarmente curato a partire dal nuovo concept di illuminazione comprese USB integrate, riscaldamento perimetrale sezionabile, ampie possibilità di stivaggio e armadio guardaroba inferiore, non manca anche lo spazio per la nuova tv a led da 24 pollici.